e mentre le campane suonano a distesa lassù sul campanile della chiesa e io vengo a darvi adesso una gradita sorpresa come vedete sono ancora vestito in borghese ma con le rime improvvisate sempre alle prese e spero che il pubblico questa cosa l'apprezzi perché io delle rime utilizzo gli attrezzi per dire con gioia ed allegrezza che vi aspettiamo ai ludi alla fortezza beh certo chi è che a orvieto da bambino non ha nelle orecchie l'incedere il rullo dei tamburi e i costumi davvero sgargianti e straordinari che rappresentavano il corteo storico nel giorno del corpus doni e quello che io ho visto mi è rimasto stampato negli occhi ma soprattutto nella memoria e le ho riportato professionalmente in giro per le varie manifestazioni storiche dell'Italia orvieto è uno scrigno d'arte di cultura e di sapienza e ogni volta che io l'abbandono per andare a lavorare fuori volgo lo sguardo con grande nostalgia e mi immagino che il visitatore ogni volta che se ne vada da orvieto se la rappresenti come me la rappresento io e che gli rimane sicuramente nel cuore grazie a tutti grazie a tutti